Benvenuti ad una nuova edizione del TG7. Vediamo insieme quelle che sono le principali notizie di oggi. Ieri a Sperlonga si è tenuto il primo consiglio comunale della terza legislatura di Armando Cusani, che ha nominato assessori e deleghe. A proposito di consigli comunali, ad Itri, il primo del neoletto sindaco Antonio Fargiorgio, si terrà il 24 giugno. Parleremo delle condizioni di salute dell'architetto Martino Di Marco, dopo essere stato colpito da un aneurisma. Ci collegheremo con la nostra redazione per le principali notizie di oggi dalla provincia e con la redazione di 26lettere.it, testata che si occupa di editoria, cultura e innovazione. Sono terminate le selezioni per i nuovi vigili del comune di Montesambiaggio. Ne parleremo. Concluderemo con la pagina sportiva con i giovani dell'Unicusano Fondi e la gara di bike che si terrà a Montesambiaggio. Tutto questo e molto altro tra poco al nostro TG. Bentornati al TG7 e torniamo sul primo consiglio comunale che si è riunito ieri a Sperlonga dopo la vittoria di Armando Cusani. Quattro assessori, tre consiglieri delegati e 16 delegati esterni. Questi i membri della squadra presentata dal sindaco. Fanno parte della giunta Iosef Maric, assessore ai beni comuni e assetto del territorio. Francesco Antonio Faiola, vice sindaco e assessore alla programmazione economico-finanziaria. Lorena Cogodda, assessore a Sussidiarietà e Sviluppo Economico. Nel ruolo di assessore ai rapporti con gli organi istituzionali, con le altre istituzioni, a sostituire Claudia Larocca che si è dimessa dopo la sua elezione in consiglio, sarà Massimo Giovannangelo. I consiglieri delegati sono Paola Caporiccio, alle politiche e relazioni con il sistema scolastico, Massimo Giovannangelo, al diritto del cittadino civicamente, Giorgio Vaccaro, allo sport e associazionismo sportivo, cura e tutela dell'arredo urbano. Mentre i delegati esterni sono Maria Concetta Carbone, all'orientamento al lavoro, valore del sistema delle piccole e medie imprese e tutela degli animali. Irene Chinappi, alla comunicazione istituzionale. Antonio Conte, al demanio marittimo e rapporti con il sistema produttivo balneare. Fernando D'Arcangelo, ai grandi eventi e al coordinamento delle manifestazioni. Stefano D'Arcangelo, ai beni culturali e paesaggistici. Claudia De Simone, alle politiche per la valorizzazione della cultura e al premio Grotta di Tiberio. Eugenio Faiola, alle politiche per la salute e università. Umberto Gallia, a difesa del suolo. Sara Chelani, ai programmi e risorse dell'Unione Europea. Paolo Lancerin, alla valorizzazione e promozione delle associazioni. Francesco D'Arcangelo, alla promozione antichi mestieri ed artigianato. Valeria Larocca, alle pari opportunità legalità e sicurezza. Simone Mati, alla protezione civile. Salvatore Petronio, alla mobilità sostenibile e ciclo pedonale. Analisa Radice, alla politica per il benessere sociale. Alessandro Saccoccio, alle politiche giovanili. Mario Spagnardi, alle politiche per la casa. E Nicola Talano, alle politiche in favore dell'agricoltura ed eccellenze locali. E a proposito di consigli comunali, spostiamoci a Itri, dove è fissata per le ore 18 di venerdì 24 giugno, la prima seduta dell'assise con il neosindaco Antonio Fargiorgio, eletto con oltre il 40% dei consensi. Fargiorgio ufficializzerà in consiglio il suo programma e la sua squadra. Nomina del presidente del consiglio, del suo vice, presa d'atto della composizione della giunta e nomina della commissione elettorale di quella preposta alla formulazione degli elenchi dei giudici popolari. Sono questi i punti che verranno trattati e sui quali vige il massimo riservo. A parte i nomi di Giovanni Colucci, assessore al bilancio, indicato già prima del voto da Fargiorgio, e di Mario Di Mattia, assessore indicato da Fratelli d'Italia. Sugli altri nomi è grande l'attesa. L'ex sindaco Giuseppe De Santis si è visto costretto a smentire le insistenti voci che lo davano quale vice sindaco con Fargiorgio, in quanto per questa consigliatura avrebbe detto non sono interessato a scendere in campo. Sono migliorate le condizioni di salute dell'architetto Martino Di Marco, dirigente del quinto settore. Lavori pubblici, ecologia e ambiente, trasporti pubblici del comune di Fondi. Di Marco, impegnato da vent'anni nel municipio Fondano, è stato colpito da un aneurisma sabato mattina a Latina nella propria abitazione, immediato il trasferimento al San Camillo di Roma, dove l'architetto ha subito un delicato intervento. Colleghiamoci ora con la nostra redazione, dove per noi c'è Alessia Filippi che ci parla delle principali notizie di oggi dalla provincia. Grazie Valentina per la linea, vediamo insieme le principali notizie di oggi dalla provincia. Auto in fiamme sulla pontina. L'incendio che ha letteralmente distrutto una Fiat Punto in transito sulla corsia sud della strada regionale si è verificato al chilometro 37 nel territorio di Aprilia alle 22.45. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo, esploso per cause ancora da accertare e provveduto alla messa in sicurezza del mezzo. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte, gli occupanti sono riusciti ad abbandonare il veicolo prima che venisse avvolto dalle fiamme. Cambiamo argomento. Mario Beltrami, 34enne di San Felice Circeo, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri della locale stazione che al termine di un'attività investigativa antidroga lo hanno fermato in via delle allodole mentre cercava di recuperare da una gabbina dell'Enel involucri contenenti cocaina. Al termine di perquisizioni a suo carico i militari hanno sequestrato ben 124 grammi dello stesso tipo di sostanza stupefacente, già suddivisa in circa 300 dosi pronte per essere vendute. Se messe sul mercato dello spaccio avrebbero fruttato all'incirca 20.000 euro. Il 34enne si trova ora nel carcere di Latina accusato di detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente. Concludiamo con una curiosità. Valeria Campagna, 18 anni, un esame di maturità da affrontare, è stata eletta nel Consiglio Comunale di Latina con a capo Coletta. Con un bel gruzzolo di 256 voti nella coalizione di liste civiche, Valeria è la più giovane del Consiglio. Tra due giorni affronterà la prima prova. È tutto per oggi, la linea può tornare allo studio. Valentina Teseo. Grazie Alessia. Spostiamoci ora a Monte San Biagio dove si è concluso l'iter per la selezione di tre vigili urbani stagionali a carattere temporaneo. I primi due entreranno in servizio già dal primo luglio, mentre un terzo inizierà ad operare a dicembre. La selezione ha riguardato 20 candidati e dopo le prove è stato scelto un agente residente a Itri, uno residente a Fondi e uno residente a Gaeta. Cambiamo ora argomento. Riconoscimento europeo per il Quatriola Ensemble, il quartetto musicale internazionale nato su iniziativa del maestro strumentista Maria Rosaria della Regione di Itri. Mercoledì 29 giugno la formazione si esibirà a Utrecht in occasione del Festival internazionale di musica da camera, organizzato dalla violinista Janine Janssen nel nuovo e prestigioso Teatro Tivoli-Wredenburg della città olandese. Passiamo adesso alla pagina sportiva. Gli esordienti 2003 dell'Unnicusano Fondi dal 25 al 27 giugno saranno impegnati nelle finali regionali. La prima partita si disputerà alle ore 16.30 del 25 giugno presso lo stadio purificato contro il Latina Calcio. La seconda partita sarà giocata il 27 giugno alle ore 19.30 contro i ragazzi del Real Cassino. Si terrà domenica 3 luglio a Monte San Biagio la seconda edizione del Valle Marina la Terra dei Briganti, quinta tappa del circuito agropontino Ciociaro 2016. Organizzata dalla cicli Rebike Fondi, la manifestazione interesserà la zona che un tempo confinava tra lo Stato Pontificio e il Regno Borbonico. I biker partecipanti attraverseranno le vecchie mulattiere dei Briganti per poi affrontare i sentieri del Sottobosco, che dalla via Francigena conduce sino al centro del paese. Il ritrovo è fissato per le ore 7.30 in piazza Padre Biaggio a Valle Marina. Per le iscrizioni alle manifestazioni si può contattare il sito agropontino-mtb.it. Per maggiori informazioni consultare il sito della società organizzatrice cicli-rebike.it. Colleghiamoci ora con la redazione di 26lettere.it, testata che si occupa di editoria, cultura e innovazione, dove per noi c'è Greta De Filippis. Grazie Valentina. Presso il Teatro Imperiale a Guidonia Montecelio dal 22 al 25 giugno 2016 si terrà la quarta edizione del concorso lirico internazionale Piole De Maria, dedicato a cantanti lirici di tutti i registri vocali e di tutte le nazionalità. Ai vincitori, che saranno premiati il 25 giugno dall'attrice Francesca Valtorta e dal regista Pierfrancesco Pingitore, saranno assegnati tre premi in denaro. Il prossimo 22 giugno, invece, esce per edizioni Gruppo Abele Rifugiati, conversazioni su frontiere politica e diritti, di Filippo Miraglia e Cinzia Gubini. Un libro conversazione nato dalla voglia di discutere e anche un po' dibattere su un tema oggi tanto centrale quanto strumentalizzato, quello delle migrazioni. Perché in una società delle comunicazioni, che tende a dimenticare troppo in fretta, la questione profughi in Europa agita i tavoli di concertazione dei governi, ma non le piazze, le persone e la politica quotidiana. In chiusura vi segnaliamo l'ultimo articolo di Giulio Pantalei, Direzioni diverse, il nuovo libro di Emanuele Binelli. La nostra rubrica termina qui al prossimo appuntamento con 26lettere.it Grazie Greta! Il nostro Tg termina qui. Vi ricordo che per suggerimenti e segnalazioni potete mandare una mail all'indirizzo redazione-tvcanalesette.it oppure contattarci sulla nostra pagina Facebook Canale 7. Vi ricordo inoltre che potete continuare a seguirci sul nostro sito tvcanalesette.it Il nostro Tg andrà in onda alle ore 7.50, 13.50, 18.50, 20.50 e 23.50. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento sulla nostra rete! Grazie! Grazie a tutti!